E non vi preoccupate per la giustizia, Dio è giusto, e Lui farà e darà i risultati a qualunque singola anima, non importa quel che pensiate, senza dubbio, ma ha una cosa, che non vi piace, che Lui abbia. Yair Rahman e Rahim. Una volta ero seduto con Mollana, c'era un fratello che si lamentava di un altro, quando se n'è andato mi ha detto, tutti mi chiedono di punire qualcuno, e mi dice, punisci quello, punisci quell'altro, ma Dio non punisce. E Rahman e Rahim. Vogliamo che Berlusconi sia punito, o chiunque altro. Vogliamo che siano puniti, giusto? Ma a volte, non è punito. E diciamo, ma perché non viene punito? Perché non è punito? Dovrebbe essere punito Lui. Ma Dio non li punisce. E Rahman e Rahim. E questo è quello che non possiamo prendere. Perché siamo molto arrabbiati dentro. Lo vedete? Siamo sempre molto arrabbiati. Molto. E vogliamo che la gente sia punita. Per così tante cose. E Seyedna Ali ha detto la stessa cosa al profeta, faccio le sue inscrivete. E poi Seyedna Muhammad Sallallahu Israim dice anche, Il profeta ha detto, oh Ali, se tu vuoi la giustizia divina, allora devi accettarla per te stesso, uno a uno. Ma non chiederla. Chiedi la giustizia divina. Chiedi la giustizia divina. Lui sa. Lui sa. Di tutti i mondi. Lui è signore di tutti i mondi. Magari in questo mondo sei svantaggiato, ma in un altro mondo può essere completamente diverso, lo sapete? E quale dovrebbe essere la giudizio? Non potete saperlo, ma Dio sa. State attenti quindi. Non dite io so. State attenti. Anche in legge tedesca. Legge italiana, se in pubblico parli male di qualcuno, senza prove, fai commetti un crimine. e puoi essere messo in prigione o devi pagare una multa. Questa è legge legale. La legge spirituale è diversa. rendere le cose facili, potete dire qualunque cosa cattiva e brutta su di me. Qualunque cosa vogliate dire, ditela. Siete liberi. Sentitevi liberi. Non dirò o farò nulla. Vedetevi le cose semplici. Come ha detto Rumi. Qui ci sono le pietre. Eccomi qua. Ve le gettate e va bene. Non ve ne ritirerò una addosso. Non sentitevi timidi. Non abbiate paura. Se dovete dire qualcosa di cattivo, ma non fatelo con gli altri. Non fatelo con gli altri. È pericoloso. Se dovete parlare male, parlate male di me. Ma non fatelo con gli altri. È aube. Allora. Può che cosa saatta? Allora. Allora. Sì.